Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha riportato un arresto cardiaco nella sua residenza privata intorno alle 21 di ieri sera. Questa notizia è stata resa pubblica dal canale Telegram General SVR, che ha citato ex generali russi dell'intelligence estera. Due agenti di sicurezza hanno fatto una scoperta scioccante quando hanno trovato il presidente svenuto nella sua camera da letto e hanno subito chiamato i soccorsi dopo aver udito un rumore, provenire dalla sua stanza. I medici hanno prontamente rianimato Putin e gli hanno diagnosticato un arresto cardiaco. Successivamente è stato trasferito in un'area medica di emergenza all'interno della residenza ed è attualmente in condizioni stabili, monitorato costantemente. Si è scoperto che Putin si trovava vicino a un tavolo rovesciato con cibo e bevande, presumibilmente a seguito di convulsioni, con gli occhi che giravano. Tuttavia non è possibile confermare questa informazione con assoluta certezza al momento. Aspettiamo che la notizia sia confermata da fonti ufficiali, anche se l'episodio sembra esserlo.